e quindi e soprattutto quando ho avuto la possibilità anche di entrare negli spogliatoi è ovvio che a quei tempi, stiamo parlando del 1984 perché tu è per un periodo della tua vita ritorniamo in studio per favore, grazie ho avuto dei grandi professionisti al mio fianco che sono Sandro Ciotti e Tito Stano che mi hanno sempre difeso però quando andavo allo stadio i cori erano incredibili ed erano una violenza verbale molto forte però non c'era soluzione a quel tempo sembrava non ci fosse nessuna soluzione e soprattutto le prime volte che sono entrate negli stadi e nel prespogliatoio per fare l'intervista perché non entri, dai facciamo la doccia insieme l'elenco è lungo purtroppo e l'elenco è lungo io devo dire, Maria Teresa Ruta, buongiorno quando tu hai raccontato tutto questo in televisione qui da noi in diretta Storie Italiane buongiorno, è collegata con noi Maria Teresa mi hai molto incuriosita perché tutto quello che sta succedendo dopo il caso di Greta Beccaglia chiaramente ha aperto un po' l'inizio di tanti altri racconti racconti che forse noi non abbiamo mai ascoltato ti va di continuare quel racconto? Maria Teresa Certo e io poi ci ho riflettuto perché quelle parole mi sono venute così di getto mentre eravamo in trasmissione anche a difesa della giornalista che ancora, ancora oggi deve subire vessazioni piuttosto che le pacche purtroppo devo dirti una cosa che io sono andata indietro a ripensare nel tempo e finché non sono arrivata alla Domenica Sportiva quindi con Sandro Ciotti Tito Stagno e quindi diciamo sono diventata una vera giornalista sportiva anche per tutti dal 1984 quando ho cominciato a fare i primi servizi come inviata nel football americano e poi in tantissimi altri sport e poi sono arrivata al calcio quella sembrava la normalità i cori facce, la vede eccetera e poi mi sono ricordata anch'io di un paio di pacche forse più di un paio ma era veramente la normalità perché io sono stata la prima e mi rendevo conto che o stavo a quel gioco oppure non sarei mai riuscita a diventare una giornalista sportiva mi sembrava mi sembrava che fosse la normalità e poi anche la Ferrari lo ha detto lo ha scritto anche lei si ricorda insieme facevamo un programma eravamo due donne che cercavamo di sfondare nel mondo del calcio dello sport e di avere credibilità e purtroppo sicuramente non ci vedevano come giornaliste che cosa ti ricordi Maria Teresa di quei momenti e quando hai visto tutto quello che è successo a Greta come hai reagito che cosa hai pensato dentro di te hai riflettuto tu dice perché io non ho detto nulla perché non come dire non ho obiettato tutto quello che succedeva no a quei tempi non era assolutamente possibile non sarebbe stato assolutamente possibile perché comunque la mentalità come vedi ancora adesso è difficile da cambiare perché qualcuno ha addirittura detto che quello che è successo a Greta vabbè non te la prendere ma come sai sono passati praticamente 40 anni e abbiamo fatto tante conquiste da un punto di vista sociale no naturalmente e noi donne siamo ancora però in una situazione di profondo disagio se tu consideri che sono ben 14 le giornaliste 12 scomparse e 2 che sono state uccise dall'inizio dell'anno in maniera atroce solo per aver denunciato fatti di cronaca gravissimi e quindi c'è una sorta di femminicidio anche delle giornaliste su cui bisognerebbe indagare i fatti di Greta mi hanno sconvolto perché pensavo che dopo 40 anni diciamo quel modo di essere quel modo di fare fosse assolutamente cambiato che i nostri figli fossero diversi che li avessimo educati diversamente proprio perché siamo stati delle vittime è questo che mi fa arrabbiare oggi più di tutto se tu tornassi indietro denunceresti quei fatti o non ti saresti sentita capita non sarebbe stato possibile secondo me perché non so se qualcuno mi avrebbe seguita a quei tempi Maria Giovanna Elmi tu che cosa pensi di quello che sta dicendo Maria Teresa Ruta e a te è mai successo? ci sono stati episodi di questo genere? no proprio di questo genere no mi è capitato una volta però con delle persone straniere non c'entra lo sport e non ero guarda ero andata a Milano e la RAI mi aveva fatto andare in un albergo in attesa del programma nel pomeriggio arrivo la mattina mi danno la camera all'ultimo piano ritiro la chiave e sto per entrare nell'ascensore a quel punto uno di tutti c'erano tutti arabi adesso non voglio dire niente contro quel paese combinazione mi sono accorta che erano arabi perché avevano tutti la cosa in testa quadretti con il rosso bianco rosso eccetera allora entro spingo il tasto dico a questo signore a che piano lui mi dice no vada si vede andrà all'ultimo piano anche lui vado per spingere con il patocco in mano della chiave e questo signore da dietro mi mette una mano qua allora io ho mollato gli ho dato una sberla all'indietro sola in ascensore sai uno sale che dice no lei non può sono in albergo gli ho dato una tale botta che gli è andata la cosa in testa sulle 23 faceva why why come why ma come mi chiedi perché questo da dietro capito ha approfittato del fatto che alzassi il braccio ecco quella diciamo che è stata una violenza inaspettata la quale però ho reagito tra l'altro con molta forza perché avevo questa chiave di metallo dentro la mano il mio pugno è stato fortissimo però queste cose proprio devo dire nel lavoro non mi sono capitate un po' è anche l'atteggiamento che ho io evidentemente scherzo lido però cerco sempre di tenere delle distanze e credo comunque oggi come oggi che le mamme dovrebbero insegnare ai loro bambini che non è tutto lecito perché molto purtroppo è questa cosa ma è piccolino bisogna stare molto attenti perché io ricordo nella mia famiglia che ormai è antica i miei genitori erano molto severi non solo con me ma anche con i miei fratelli quindi io non credo che i miei fratelli avrebbero mai fatto una cosa del genere per un fatto di educazione e credo che oggi ci sia questa libertà verso i ragazzi che tutto si può deve decidere lui che ci ha sbagliato dici no può darsi mi auguro di sbagliare mamma io e i miei figli sono educatissimi non si permetterebbe mai assolutamente di fare una cosa del genere quindi bisogna vedere a volte ci sono delle cose che vanno anche analizzate nel senso che io sono molto attenta ci sono mamme che non per colpa loro magari lavorano e tanti ragazzi anche con questi social si prendono tante libertà però da lì a fare apri chiudo parentesi una molestia ce ne vuole lì ci sono dei progressi allora andiamo Maria Teresa Ruta non è d'accordo buongiorno Riccardo Bocca Maria Rita Parsi benvenuta presentiamo anche Claudia Peroni ciao Claudia dunque in che cosa non sei d'accordo Maria Teresa Ruta Maria Teresa dimmi poi per quanto noi possiamo parlare con i nostri figli l'atteggiamento spesso lo copiano dai padri i ragazzi che si comportano così ma non stai facendo un complimento a tuo marito però Maria Teresa perdonami no ma scusate io sto parlando dei fatti che sono avvenuti cioè non mi coinvolgono i fatti a me personalmente e poi quando hai detto Maria Giovanna dipende dall'atteggiamento sai quando tu vai all'interno di uno stadio dove i cori sono cornuto all'arbitro tu puoi immaginare cosa urlano ad una donna cosa urlavano ad una donna hai ragione forse sono stata solo fortunata però sinceramente non ho mai avuto queste cose dalle quali non potessi difendermi ecco uno che mi dà una patta di chiedere da dietro se rispondo alla stessa maniera dell'arabo ritorniamo un attimo sulla ferra Greta Beccaglia in diretta tv una persona è passata un ragazzo è passato e praticamente ha toccato il suo corpo le parti del suo corpo due ragazzi due ragazzi in due momenti diversi e Claudia Peroni che è collegata con noi ciao Claudia ha raccontato di come adesso non so quanto tempo si è passato durante un'intervista a due grandi campioni della Formula 1 è capitato una cosa molto molto simile allora vediamo la copertina la copertina è capitato Allora, vediamo insieme a Claudia Claudia, che cosa è cambiato secondo te rispetto a quello che ti era successo? Intanto ti va di raccontarcelo? Sono passati più di vent'anni Assolutamente sì, era il 95 Che erano questi due campioni della Formula 1? Sì, due campioni della Formula 1, della Ferrari Due persone di livello, perché comunque due ragazzi giovani Ma assolutamente educati Quindi non sono d'accordo sul fatto che Io non ho mai dichiarato di essere stata molestata Questo ci tengo a sottolinearlo Anche perché non si trattava di questo Si trattava di uno scherzo Forse è andato un po' esagerato Nel senso che io ero molto giovane, come loro E quindi io sono sempre stata Cioè, Maria Teresa ne sa qualcosa Noi siamo, in quanto giornaliste sportive In prima linea, lei sul calcio Io sulla Formula 1 Fa un po' parte Era un mondo molto più maschilista Fa un po' parte dello sconfinare in un mondo di uomini Questo nostro lavoro Quindi non ti dico che bisognava mettere in preventivo Questo no Però allora probabilmente non c'era questa malizia da parte loro Probabilmente, anzi, sicuramente oggi Non capiterebbe più E non capiterà più una situazione di questo tipo Anche perché i piloti di Formula 1 Soprattutto vengono briefati E loro per primi Non farebbero Charles Leclerc e Carlos Sainz Sono sicura che una cosa del genere Eppure essendo due ragazzi belli e giovani Ma non farebbero mai una cosa del genere A una giornalista che l'intervista Era tutto un mondo molto diverso E di conseguenza anche la mia reazione è stata È un po' vero quello che vanno detto Cioè il fatto che io ho reagito Oggi reagirei in un modo diverso E allora forse pur essendo imbarazzata Perché è chiaro che ero a disagio Qual era il gesto? Aiutami a capire Il gesto? Di che tipo? Quando è successo 26 anni fa? Cioè perché tu hai fatto questo riferimento? Perché anche a te avevano dato questa paccata? Più di una Più di una Non abbiamo visto il video Mentre intervistavo uno l'altro E mi dava uno schiaffetto Mentre intervistavo l'altro l'altro sbricciava Però ecco voglio dirvi Non era fatto assolutamente con malizia allora Però ripeto Erano altri tempi Per cui non ti dico che Non mi è mai capitato altre volte Cioè mi è capitato solo in quell'occasione Tra l'altro poi era stata presa al volo E mandata in onda Su un programma sportivo Su un programma E chiaramente c'era la Jalapas Che la commentava Quindi l'hanno messa un po' sul ridicolo Non hanno certo sottolineato O forzato Ma in realtà i gesti sono gli stessi? Siamo noi che li stiamo vedendo in maniera diversa? Maria te la saluta Beh prima di tutto Dimmi dimmi No 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 Prima di tutto Un conto sono dei gesti Fatti da persone sconosciute E anche con una sorta di Non ti dico cattiveria Ma sicuramente di poco Poco Come dirti Poco gusto Non so diciamo così Per non dire altro Nei confronti di una donna Che sta facendo il suo lavoro E chiaramente Non è una cosa Totalmente fuori luogo Quello che è accaduto a Greta Nel mio caso Non ti voglio dire Che è giustificato Dico solo che I tempi E i modi E soprattutto le persone Erano completamente differenti Io li conoscevo molto bene Tra l'altro Erano persone abituate Molto a scherzare Ai tempi Schumacher Senna Era un altro Che scherzava tantissimo Cioè Berger Soprattutto con Senna Quindi c'è Era un'altra mentalità Anche in Formula 1 Non significa scherzare Allora Fermali Fermali Claudia Perché adesso Mandiamo in onda Un attimo Quello che è successo a Greta Così Ci ricordiamo tutta la storia Vedo anche Aida Jespica collegata C'è Riccardo Bocca Che vuole intervenire Su quello che hai appena Appena detto Perché non è Totalmente d'accordo Allora Copertina Ciao Ciao Giorgio Eccomi Stanno uscendo adesso Tutti i tifosi Della Fiorentina Volevo sapere un po' Che clima c'è Soprattutto Provaci Non sarà facile Scusami Non puoi fare questo Mi dispiace Vai Non te la prendere Non te la prendere Nel post partita Sono uscita Dallo stadio Per aspettare i tifosi Per capire l'atmosfera Purtroppo Quando sono uscita Hanno iniziato a urlarmi A urlarmi cose non carine Uno si è anche permesso Di tirarmi uno schiaffo Sul c***o Ecco Questa è una cosa inaccettabile La mia solidarietà La Greta Beccaglia Perché so Quanto ama Fare quel lavoro Si possono accettare Dei comportamenti del genere Le donne non si toccano Non si toccano mai Bisogna parlarne Nessuno può permettersi Di alzare le mani Senza il consenso Allora Riccardo Guarda pure la tua telecamera E se vuoi parla con Claudia Perone Allora qualche piccola osservazione Intanto 26 anni fa Stavamo per entrare negli anni 2000 Non stiamo parlando Dell'inizio del Novecento In mezzo ci sono stati Eventi molto importanti Come una rivoluzione culturale Sessuale Di consapevolezza Che non possiamo dimenticare Assolutamente Il secondo aspetto È quello delle regole del gioco Come le ha chiamate prima Maria Teresa Ruta La parola gioco E la parola sport Dovrebbe sottintendere L'esatto opposto Cioè una capacità di comprensione Del ruolo Delle persone All'interno di un meccanismo Che in questo caso è lo sport E che invece è sempre stato Un centro di maschilismo Sfrenato Che ha rappresentato Non soltanto una mancanza di rispetto Nella parte del corpo femminile Ma soprattutto Della testa Delle donne Ed è stato un sistema In questo senso Di potere Il terzo aspetto È la malizia Purtroppo Centra poco È una consapevolezza È quel rapporto Con la persona Che include anche il corpo Ma non soltanto Che non può Svilire in alcun modo Quello che è il ruolo La psicologia E la professionalità Di una persona Che sta svolgendo Il proprio lavoro In questo senso È questo che abbiamo visto Anche con Greta Ed è Come sempre Al centro Alla fine Criminalizzata La vittima Cioè Si sta a vedere Come reagisce Si sta a vedere Come viene trattato L'episodio Concentriamoci Su quella Che è la mentalità Di chi Svolge Questo tipo di Che ha questo tipo Di comportamento E di conseguenza Quindi La cultura Che lo sottintende E l'educazione Che porta a questo Ma anni fa Ci sentivamo in colpa Tu vuoi rispondere Claudia Maria Teresa Ruta Dice La Elmi qua Anni fa Noi donne Ci sentivamo in colpa Un minimo Sotto sotto Perché Ma non lo so C'era Infatti c'era Questa reazione Infatti Quel signore Ti dicevo Arabo Eccetera Perché mi diceva Why? Perché Perché Come lui mi abbraccia dietro Metto una mano sul seno Mentre io spingo un bottone Certo Però la sua consapevolezza Di donna e di persona Prima ancora che di donna Di persona L'ha portata immediatamente A reagire E l'ha fatto comprendere Al di là di quello Che era il concetto sociale In quel momento Di rapporto con Allora Maria Teresa Claudio Volete rispondere Poi c'è la Parsi Che interviene Fra l'altro Poi questo tifoso Dice Allora il giornalista Poi è reagito Poi lo vediamo Come ha reagito il giornalista Che è stato sospeso Adesso dice Non te la prendere Questo dopo 26 anni Da quello che è successo A te E Claudia Il giornalista ha detto No non te la prendere Come di me Non è successo niente Allora Maria Teresa Sì Sono assolutamente D'accordo con Bocca Io sto parlando Di episodi Che successi a me 40 anni fa Ecco 41 anni fa Quindi sono veramente Passati tanti anni E devo dire Che essendo stata La prima giornalista A entrare negli spogliatoi L'atteggiamento Era assolutamente Però goliardico Perché loro Si facevano gli scherzi Facevano gli scherzi Ai giornalisti Ricordiamo il gavettone Fatto da Maradona Al grande bisteccone Quindi l'atteggiamento Era veramente Fortemente goliardico Il fatto che ci fosse Una donna Li destabilizzava E comunque Si comportavano In maniera goliardica Anche con me Quindi io l'ho sempre Tra virgolette Perdonati Di questi atteggiamenti Non c'era Non c'era la malafede Che c'è stata Invece con Greta Adesso Diciamolo Perché dobbiamo dirlo Perché sono proprio Atteggiamenti Completamente diversi Forse anche a quei tempi Si poteva fare qualche cosa Ma non è la malafede Purtroppo nel rispetto Comprendo qual era lo spirito Ma non è lo spirito La malafede o non la malafede È il comportamento oggettivo È la mancanza di rispetto Nei fatti Che veniva considerata naturale Ancora peggio È vero È vero Io sono pienamente D'accordo con te Io sono pienamente D'accordo con te Però ti voglio dire questo Sono anche d'accordo Con Maria Teresa Quando parla di goliardia Però ti voglio dire Che la goliardia È allora come ora Gogliardia Quella del caso di Greta Non è goliardia No Quella è assolutamente Qualcosa di inopportuna E di grave Ma sono due cose Molto differenti Dal mio punto di vista Cioè prima di tutto La gestione Bisogna anche Saper Cioè essere in grado Di gestire una diretta Non mi riferisco a Greta Mi riferisco magari Anche le persone lì presenti Che io fossi stata Al posto di Greta Oggi Visto che è diretta Ne faccio ancora Probabilmente Avrei reagito In maniera più Pesante Di che non con Un'unica frase Detta da Greta Cioè io veramente Avrei reagito Anzi in diretta Ma parliamo di chi Ha commesso l'atto Concentriamoci Non facciamo Questo errore Non fate questo grave errore No io sono solidale A Greta Non mi fraintena Assolutamente Quindi non voglio Prendere le difese Ci mancherebbe O puntare il dito su Greta Per come ha reagito Assolutamente Io non lo punterebbero Neanche sulla persona in studio Neanche su di lui L'avrei puntato In questo modo Ma comunque reputo Che una cosa del genere Sia grave Ma che purtroppo Purtroppo Cioè bisognerebbe Forse prevederla Quindi ci devono essere Delle persone Della security In un'uscita Di uno stadio Intorno a Greta Che fa questi collegamenti Perché non è la prima volta E non sarà neanche l'ultima Che possono accadere Episodio Ci rendi conto a volte Che cosa vuol dire Nascere donna Ecco Per noi Non è facile Non è facile Quindi questo È solo uno Dei tanti episodi Che possono accadere In quanto donna Donna Magari anche Di bella presenza E in più Che fa Che ha un ruolo Di professionista In un ambito maschile Tu hai detto bene Prima Oltretutto C'era molto più maschilismo Quindi qua Non solo 40 anni fa Anche nel 95 Ti posso garantire Che per me Non era facile Stare ai box In mezzo A tutti gli uomini Non era facile Farmi rispettare Io ho anche corso In macchina 13 anni E loro lo sapevano Quindi in qualche modo Mi rispettavano Anche per questo Perché sapevano Che ero competente In fatto di Formula 1 Ma che avevo anche Un po' vissuto Nel mio piccolo Il fatto di essere un pilota Ciò non lo scante Allora sentiamola parse Ciò non lo scante Dramatizzavano Cioè Ergogliardie Quella che I piloti Ok Allora Parsi Intervieni Su quello che Si sta dicendo Ho lasciato proprio Perché era da ascoltare Allora Punto primo Non considerare Oggi Nel 2021 Una donna Con tutta la sua Mente Corpo Immaginario Significa non aver fatto Nemmeno un passo avanti Nelle violenze Negli abusi E basterebbe vedere Femminicidi Maltrattamenti Un passo avanti Noi però L'abbiamo fatto Il passo avanti Nel senso che Stiamo lottando E Bocca Lo ricordava Non da oggi Per un cambiamento profondo È chiaro che prima Erano tempi diversi Attenzione Che non significa Che era meno grave Quello che veniva fatto Era sottovalutato E le donne Non reagivano Oggi le donne Hanno un comportamento Completamente diverso Perché è maturato Nel tempo Attenzione però Dice bene Bocca Consideriamo la persona Che fa un atto Di questo genere Perché dietro Quella persona C'è una cultura C'è una mentalità C'è una storia familiare Allora uno che arriva A attribuire Al femminile Stai lì? Sei vestita In maniera provocante? Posso fare quello che voglio? Come il signore Dell'ascensore Why? No? Allora uno che vive in un paese Scusate se me lo ricordo No che cosa dimmi No Pensavo Pensavo al delitto d'onore Pensavo Che noi abbiamo vissuto In un paese No ma capisci da dove veniamo Dobbiamo cercare di capirlo Stanno pure in Italia E comunque io credo Che gli uomini Che hanno Sono ancora adesso in Italia Delitto d'onore Appunto Quindi il discorso è questo Che Gli uomini che agiscono In questo modo Sono uomini Profondamente segnati Da una fragilità Che vede nel corpo Della donna Qualcosa che è in loro possesso E controllo Che si possono permettere Le mancanze di rispetto E che probabilmente hanno Una serie di tali complessi Di tali meccanismi Diciamolo Chi fa questo Deve guardare Perché lo fa E deve pensare Che questo non è il comportamento Che diciamo Valorizza il maschile È il contrario Gli uomini veri Questa roba non li fanno Non la fanno mai I uomini veri Rispettano Il valore del femminile La sua intelligenza La sua capacità Le donne Le donne Hanno una mente E hanno una capacità Di accoglienza E hanno un corpo Che è sempre stato desiderato Dagli uomini Rispettarlo e amarlo Significa entrare in contatto Con qualcosa che dà la vita Scusate se lo dico È ora di finirla Con sta storia Le donne devono prendere coscienza Che il loro corpo È un valore formidabile Gli uomini Devono rispettarlo Perché lo è È quello che dà vita Alle forme della vita È il laboratorio neurobiochimico Da cui tutti proveniamo Uomini e donne Allora questo giornalista Lì in studio Aveva risposto così Non te la prendere Io credo che Greta Sia stata molto molto brava Perché davanti a un giornalista Cioè il suo capo In quel momento Che le diceva No dai Lascia stare Non te la prendere Si cresce anche così Greta? Greta? Ah Cosa? Dimmi Dimmi Diceva Si cresce anche così Si cresce anche così Le ha detto Attraverso questo Lui ha detto a lei Io l'ho trovato gravissimo Questo commento Si cresce anche così Per carità Non è che io punto il dito Contro nessuno Cioè non punto il dito Contro questo giornalista Però francamente Se fosse accaduta Una cosa del genere Forse Non tantissime persone Avrebbero reagito Ho detto una cosa del genere Io non lo so Non lo so Claudia poi Tu che cosa Che cosa ne pensi Vediamo Non ci sia reso conto Non ci sia reso conto Non ci sia reso conto Non renderti conto Di una cosa del genere Guardate Mi dispiace Guardate Non puoi fare questo Mi dispiace Non te la prendere Non te la prendere Non te la prendere Non te la prendere Allora Cioè Aida Ciao Aida Enrico Silvestrin Enrico ha detto Di essere stato molestato In ambiente professionale Da un uomo Un uomo delle istituzioni Allora Aida A te È mai Successo Capitato Ricordiamo Aida Qui proprio nel nostro studio Ha raccontato Delle violenze subite Da piccola Per cui Violenze sessuali Subite da piccola Per cui purtroppo Come dire Aida Ha delle ferite Interiori Che non passeranno mai Un racconto È stato un racconto Straziante Il suo E io ho grande rispetto Per quello che lei Ha detto qui Nel nostro studio Le ho sempre espresso Veramente una grande vicinanza Una grande comprensione Ecco Nell'ambiente professionale Ti è mai capitata Una cosa del genere? Buongiorno Buongiorno a tutti No Nel ambito lavorativo Non mi è capitato mai Però Quando andavo Quando avevo tipo 26-27 anni Che andavo in discoteca Sì mi è capitato Due volte Ovviamente Quando c'è la folla In quel momento Loro ne approfittano Anche E mi è capitato Come a Greta No? Questa palpatina A parte del mio corpo La prima volta Non sono riuscita Quando mi sono girata Non sono riuscita a vedere Questa persona La seconda volta In quel momento L'ho preso Subito in mano E lo strisciato La mano Si è proprio schiacciata E me le sono avvicinata Al viso E le ho detto Non ti permettere mai più Ma mi è capitato Questo In discoteca Quello che le è caduto A veramente a Greta È una cosa Che non è accettabile Come lei l'ha detto Si è stata ripresa In diretta Le molesse Sono state fatte In diretta Ma io penso Quante donne Sono costrette A subirne Ogni giorno A telecamere Spente Veramente Mi dispiace Per quello Che le è caduto A Greta Perché è stata Lasciata da sola Nessuno è intervenuto C'è proprio Una totale indifferenza Questo non è normale Ma non interviene mai Nessuno Comunque Aida Te lo dico Perché a me è successo E ti posso garantire Che anche in pieno giorno Proprio si fanno Tutti gli affari loro E questa è una cosa Veramente A mio avviso Sconcertante Che però Però bisogna anche dire Che questa cosa è importante Questa è la società Che ci circonda Quindi noi parliamo Parliamo Poi alla fine Succede un fatto E tutti quanti Che girano la testa Cioè Allora Di cosa stiamo parlando Quale educazione Bisogna dare I nostri figli Come si può cambiare La società Noi Che diritti abbiamo Meno degli uomini C'è una netta differenza Tra uomo e donna L'uomo è più goliardico Lui Basta che Ha una moglie Guarda il calcio Va a lavorare Ha un piatto caldo E noi siamo E sono felici Noi siamo più Posso chiedere adesso No Chiedere a me Non facciamo L'uomo è più semplici Ma dai Non voglio Potessi Non descriviamo I uomini Come i poveri imbecilli Perché non è così Io volevo Semplificare Che l'uomo È più semplice La donna È un po' più complessa E noi lo possiamo Anche vedere Già da una bambina Di 4 anni E un bambino Di 4 anni Cioè volevo dire Noi siamo molto più Mentali L'uomo è più sempliciotto Per quello Io chiedo La cortesia Se un uomo Parlasse così Di una donna In questo momento Sarebbe veramente Avvivente Ogni tanto È meno complicata Non mi costa C'è il rischio Poi di entrare Nelle In luoghi comuni Che insomma Poi bisogna Sui quali bisogna Secondo me Fare anche Un po' di attenzione Perché altrimenti Poi anche noi Potremmo fare Lo sbaglio Lo stesso sbaglio E questo Questo non si può Assolutamente E non si può fare Volevi rispondere A quella Gesso di questo giornalista Maria Teresa Ruta Quando lui ha detto No Non ti preoccupare Non è successo niente Tu che cosa avresti fatto Non ti preoccupare Si cresce anche così È una frase antica Io non credo Che questo giornalista Sia giovanissimo È una frase antica È un modo di pensare Antico È un modo di pensare Che ho trovato In alcuni Giornalisti Di quegli anni Allora Enrico Silvestre Anch'io Sottolineo E crescendoci Si ribella Allora Si cresce anche così Sì Si cresce anche così E crescendoci Si ribella Ben detto Ben detto E dato che ormai Ci si ribella La gente ricordi questo E tra l'altro I bambini e le bambine Sono meravigliosi Quando sono piccini E credimi Hanno tutto uno sviluppo Maschi e femmine Che siano eccezionale Va solo curata La cultura E si deve partire Dalle famiglie Si deve partire Dallo scuola Vanno assolutamente Sostenuti Dimmi Consapevolmente Non facciamo gli ipocriti Perché non si sputa Su una mano E si mette una mano Sul sedere di una donna Per nessuna ragione Al mondo Di fronte A un luogo Che diventa La gora La piazza pubblica Riflettiamo Su questi paradossi Chiunque di noi Quando si accende Questa telecamera Ha una responsabilità Civile Sociale Culturale Abbiamo una responsabilità Abbiamo una responsabilità Perché se non Siamo noi i primi A dire determinate cose A denunciare Determinati atteggiamenti Uno non può dire Beh ma Non è successo niente Claudia Capito Quello che Io ci terrei A raccontare una cosa Cioè Dimmi Ha detto bene Ha detto bene Il mio collega giornalista Che Vi voglio dire Questa cosa Ai tempi Formula 1 Adesso forse meno C'era un certo Davide Paolini Non so se ve lo ricordate Che si metteva Dietro le telecamere Sempre Lo ricordate? No È sempre stato È stato anche condannato Per altre cose Ecco Paolini Paolini Scusami Non Davide Hai ragione Scusa Paolini Si metteva sempre Dietro le telecamere Allora C'è un po' Come ha detto bene Cioè Quando si accende Una telecamera C'è un po' Questa Ci sono questi Malati di protagonismo E ribadisco Non è che voglio Assolutamente Giustificare Questo gesto Terribile Di questa Di questa persona Ma anche Nel commento Del giornalista L'ho trovato Come dice bene Maria Teresa Antiquato Fuori luogo Antiquato Antico Vecchio Ma Cioè Non lui Ma insomma Questa battuta Ma Ma c'è un po' Questa Questa idea Che in qualche modo Uno Si riesca a mettere in mostra Anche attraverso Un gesto Bruttissimo Del genere Però questo è stato Il suo momento Di gloria Perché sapeva benissimo Che c'era una diretta Di mezzo E quindi L'ha fatto Nella maniera Più disgustosa Più inopportuna Però in qualche modo C'è anche Questo fattore Che quando si accendono Alle telecamere Dietro Alle nostre spalle Succede Di tutto Poi ci sono Le persone Incivili Per fare un complimento Che fanno Questo tipo di gesti Ci sono quelli Che si limitano A salutare Dietro la telecamera Quindi dobbiamo Anche considerare Questo aspetto Ecco perché Io dico Che normalmente Nelle dirette A me è capitato Tantissime volte Per me è una diretta Accesa Scusami Una telecamera Accesa Su un gesto del genere Un deterrente Nel senso Che molti lo fanno Perché pensano Che sia un gesto normale Figuriamoci Davanti a una telecamera Dove tutti ti guardano E poi credo Fossi sposato Questo ragazzo Per cui Sì sì Lo stava guardando Pure la moglie Sono tutti bravi Buoni Sposati I figli Sì No ma è sicuramente C'è questa Spaccatura ipocrita Tra il mondo Della casa Il mondo Della presunta Normalità Com'era Tanto buono Sempre gentile E poi quella Che è Non una forma Di trasgressione Ma di esplicitazione Di qualcosa Che si ha dentro E che diventa Fuori di casa Uno strumento sociale Di aggressione E di non rispetto Di quella Che è l'identità Altrui In questo caso Di una donna Ecco allora Entriamo nella mentalità Nella sottocultura Enrico Silvestrin Qualche giorno fa Qua in trasmissione Poi la notizia È andata ovunque Hai raccontato Di essere stato Molestato Tu lavori E hai lavorato In un ambiente di cinema Anche Un ambiente molto importante Sei un viso Conosciuto Hai lavorato Con tanti registi E qui Eri qui vicino a me Ad un certo punto Una cosa che non avevi mai detto In vita tua Che sei stato molestato Da un Al tempo Regista famoso Facente parte Delle istituzioni Non hai voluto Dare nomi Nel nome Nel cognome Dice Non fare il nome Fammi il cognome O tutti e due Magari Non l'hai fatto Ma insomma È importante poi Questo fatto Che tu hai raccontato Dopo tanti anni Ad un certo punto Mi dico Guarda L'ho detto Perché mi sentivo Di dirlo Ma nello stesso tempo Provavo vergogna Vergogna Perché provavi Quella vergogna Quando hai detto Questa cosa Ma anche nei giorni dopo Nel senso che Intanto Voglio fare una premessa Io ho risposto Educatamente A una tua domanda E hai chiesto Ti è mai successo a voi Eravamo presenti In studi diversi È mai successo a voi In ambito Professionale Una cosa Anzi In ambito medico Perché parlavamo di medici Quella volta Io ti ho detto Non mi è successo In ambito medico Però mi è successo In ambito professionale Fidati che In tutti questi anni Perché avevo È una storia Credo del 91 90 Comunque Avevo a stento Credo Non so neanche Se avessi compiuto 18 anni Io non l'ho mai detto A nessuno Non l'ho mai avuto Il bisogno Né la necessità Di tirarla fuori È stato del tutto casuale Ti giuro che è stato casuale Non avevo nulla Da dover tirar fuori O altro Dover sollevare scandali Ovviamente Quando dici una roba Del genere Il vomitatoio Di internet Diventa Ingestibile Chiaramente Hai ogni tipo di commento Ma avendo le spalle larghe Figurati se non riesco A tenere botta Perché qual è stato Il vomitatoio Cioè che cosa ti ha detto Beh ma sai Le solite cose Ha questa gente Che per farsi pubblicità Dice che è stata molestata Stranamente lo dicono Dopo 200 anni Da quando è successo Ora Sottolineando che non avevo Nessun bisogno Di esternare questa cosa L'ho fatto proprio perché La risposta era sì E l'ho trovata più corretta Rispetto a rispondere no Che sarebbe stato finto E bugiato Ti ho solo spiegato il contesto Intanto è un contesto Non cinematografico Ma teatrale Perché io facevo Una scuola di teatro Dove questa persona Era il mio insegnante Tra l'altro Era la scuola di teatro Di mia zia Dove questa era Una persona affidata Che era stata messa lì Da mia zia Per cui una persona Anche di famiglia Cioè legata alla famiglia No non legata alla famiglia Però sicuramente Convalidata Convalidata Da una persona di famiglia Questo sicuramente Era una professione Inseriva dal sud E purtroppo Portava con sé Essendo un maschio Omosessuale Portava con sé Un retaggio Molto ignorante Dell'essere maschio Ed omosessuale Perché Non era semplicemente Omosessuale Di base era maschio Ignorante Quindi per lui Provarci Fare passo Essere andato Con lui In una Tra virgolette Vacanza studio A Parigi Gli dava il diritto Di poterci provare Nel senso che Nel suo essere gretto Il fatto che io fossi andato lì Era già una prova Di compiacenza Ed è questo l'errore Ma ho scoperto di peggio Che lui utilizzava Il suo potere Di regista Diciamo La sua Possibilità Di farti Di farti Lavorare Per Non mi faceva lavorare Perché era una scuola Era una scuola di teatro Quindi non mi faceva lavorare Non c'era nulla di professionale Legato a questo Non avrei svoltato nulla Sono semplicemente andato A fare un seminario Però essendo stato Comunque regista Avresti comunque Dopo la scuola Potuto fare una carriera Avresti potuto lavorare Questo era Considerami uno studente Era uno studente Né più né meno Stavo facendo questa cosa Per curiosità mia E per piacere Per cui si è molestato Di fatto Sì Nel cuore della notte Io stavo dormendo Mi sono ritrovato Una persona che dormiva In un'altra camera Nel mio letto Che cercava Di Cercava Non cercava Stava E mi sono svegliato Allora Credetemi Anche rispetto al vomitatoio La reazione Non è Adesso ti gonfio di botte Come tanti suggerivano Ma la reazione È di paralisi Quindi sono rimasto Ploccato Questo succede a tante vittime Sì E il motivo per cui Non ho mai parlato di questo È semplicissimo Me ne vergognavo Perché dentro di me C'era una parte Anche in me Antiquata Evidentemente Culturale Ambientale Che diceva Ma tu sei andato fino a lì E quindi In un certo senso Gli hai dato il motivo Di pensare Perché Avresti dovuto declinare Poi è chiaro Che i miei genitori Sapevano Che io stessi andando lì E tutto Quindi non era Ero in un contesto Che dove essere sicuro E invece poi Ti ritrovi Che ti fidi di qualcuno E poi non puoi fidarti Ma il peggio L'ho scoperto Proprio dopo Che il vomitatoio È uscito fuori E sono rimasto Molto male Perché ho scoperto Che Mentre io Tre anni fa Partecipavo A un'importante Trasmissione Televisiva Questo signore In una famosa Casa italiana Diciamo Mettiamo così Non sa fare pubblicità Nessuno Questo signore Dal nulla Ha fatto un articolo Ha pubblicato un articolo Ha chiesto di essere Intervistato Dicendo Che dentro Questa casa C'era Un Parole sue Eterofrocio Quindi per lui Il fatto di aver subito Un abuso Io penso che l'ignoranza Non abbia mai fine Veramente Per lui il fatto di aver subito Un abuso Mi convalidava Come omosessuale Allora Cioè non conta il fatto Che io non abbia mai avuto Rapporti omosessuali Dopo o altro Per lui contava Il fatto Che essere stato Ho capito Insomma Vittima di quella cosa Lì mi rendeva automaticamente Anche la maniera Insomma Ripeto Cioè lui Ad oggi Non è un pentito Lui non è un pentito Ad oggi Sì sì Ho capito Ho capito È passato È passato È passato È passato Sì però A volte anche Ecco L'ignoranza L'ignoranza Delle persone Nella maniera O nell'altra No? E poi questo sentimento Di vergogna Che purtroppo E lei me lo insegnerà Tante vittime Provocano Ma perché È provocato dai carnefici Il sentimento di vergogna Attenzione Questo va ricordato Questo va ricordato È il caso Di quello che ha rivelato Veramente È stato interessante ascoltarlo Ma per le donne Molte volte È non avere La stessa Intanto essere oggetto E non soggetto E poi Come dire Essere considerate Se desiderano Se hanno piacere Desiderio Se hanno È sempre Una posizione Capito Che devi giustificare Perché non è paritaria Quella dell'uomo L'uomo può avere L'istinto Il desiderio Il piacere Le donne no Quindi c'è proprio Una differenza profonda Che va modificata Le donne hanno Desideri Piacere Istinti È chiaro Bloccati dalla vergogna Dal comportamento Ma tutto questo Non viene tenuto In considerazione Il fatto che tu Sfiori un corpo A quel modo Non pensi che ci sarà Una reazione E se tu ti metti Come ha raccontato Adesso Però Enrico Allora Scusa un attimo Riccardo Allora Aida Quando Dopo che sei venuta qui In trasmissione Tu Hai fatto Un lungo racconto Di quello che ti è successo Da piccola E hai parlato Di violenza sessuale Subita Da un amico Di tuo padre Per anni E per anni Tu sei stata in silenzio Non hai detto nulla Al tuo papà Perché pensavi A una sua reazione Terribile Per cui Hai tenuto Questa Violenza inaudita Che hai subito Per tantissimo tempo Sia fisica Che mentale Psicologica E ad un certo punto Davanti al racconto Di una tua Amica Tutta questa sofferenza È ritornata a galla Dopo che sei stata qua Tu mi hai raccontato Di aver subito Su internet Sui social Una serie di offese Un linciaggio Un vero e proprio linciaggio Perché Che cosa ti hanno detto Racconti questa cosa Per farti pubblicità L'hanno detto Anche a te Mi hanno detto Mi hanno scritto Tanti Tanti persone Dicendomi Che io Facevo questo Raccontavo questo Per farmi pubblicità Ma dovete capire Questo non è pubblicità Bella Comunque raccontarle Raccontarle Gianni è difficile È molto difficile È dolorosa Perché comunque Escono La cicatrice È ancora lì aperta Ma raccontarla di più Perché comunque Ti sfiora tutto Quello che ti è capitato Per loro è come un gioco Quando è successo Quello che le è capitato A Greta Per loro Ridono È come un gioco È proprio Malatti Malatti Veramente So che Anche Greta Ha fatto la denuncia Ha risieduto Tanti messaggi Di solidarietà Ma anche Messaggi negativi Messaggi di minacce Oltre al danno Anche alla VEFA È inconcepibile Cioè proprio Si rendono conto Proprio Per loro è quello Cioè Scrivere anche Anche a me Mi ha scritto Tanti tanti messaggi Ma proprio Io a volte li cancello A volte non li leggo Perché comunque Fanno male Fanno male Non riescono a capire Non riescono a dire Entrano in testa Veramente Che questo non è un gioco Cioè io non ho bisogno Di farmi pubblicità E pubblicità del genere Molto meno Cioè proprio meno E tu cosa hai fatto Sotto questi commenti Non hai risposto Hai lasciato correre No Hai denunciato Che cosa Che cosa Come è No Non li ho cancellati Comunque Li hai bloccati Li hai bloccati Sì Però comunque Come te l'ho raccontato Anche questa è una molestia Anche questa è una molestia No ma è una molestia È una molestia Comunque Io spero Spero che questa trasmissione Prenda in mano Anche il discorso Di quello che fanno sul web Perché è una vergogna Veramente deve diventare Un discorso diverso Non se ne può più Adesso ne parliamo Perché Quando si parla Di giovani Di ragazzi Di social Però non pensate Che tutti questi discorsi Che stiamo facendo Siano così scollegati Poi dal mondo Dei ragazzi I ragazzi Che saranno poi Gli uomini Del futuro Dunque Ora vi voglio raccontare Questa storia Che è partita Dai social Sentite Avevo 16 anni Sono stata approcciata Su internet Da uno sconosciuto Ero vulnerabile Diciamo Credo che sia stato Bastante percepire Questa persona Mi ha contattata Riuscito a conquistare La mia fiducia E è iniziato Normal La cosa E poi mi inizia A fare delle richieste Un po' strane Sì C'è cose esplicite Scriversi schifezze Addosso Roba del genere E tu perché lo facevi? Perché ho bisogno Di questa approvazione Mi piacere a credere Che fossi l'unica roba Che aveva nella vita Che fossi l'unica cosa importante E perché se dicevo di no Partivano le minacce E hanno rivolte verso di me Diciamo Rivolte verso se stesso Si sarebbe suicidato Che avrebbe fatto delle pazzie Lo so che faccio schifo Mi libererò di questa vita Libererò voi tutti Della mia presenza Me ne vado domani Lo risponderò al telefono Anzi L'unica minaccia I miei confronti E voleva rapirmi Ok Voleva venire a casa mia E portarmi via Io avevo molta paura Quanto tempo è durata Questa situazione? Da sei mesi e un anno Tu non l'hai mai visto lui? Per videochiamate Ma fisicamente no Anche perché quando dicevo Ti va di venire Si tirava sempre indietro Poi è iniziato a fare Le chieste esplicite Sempre più esplicite Sempre più perverse Era una roba schifosissima Io devo stare sveglia fino a tardi Raccontargli queste storielle Così che lui Facesse i suoi lavori Lo terminasse Andasse a dormire Mi faceva schifo Mi sentivo sporca Mi sentivo rifiuto Mi faceva schifo Allora Foto esplicite Con il mio nome La mia faccia E da allora La mia vita è cambiata Ascoltate E dopo circa Quattro anni Sono venuta a sapere Che queste cose Erano Di dominio pubblico E' ritornato tutto fuori E da lì Che sono rimasta Traumaticamente Ma che cose Che vi giravano? Beh Foto esplicite Mia foto esplicite Con il mio nome E la mia faccia La mia vita Da quando sono già Sapere questa cosa È cambiata Completamente Perché mi è tornato Il trauma Mi sono tornati i ricordi Mi è tornata la paura Come se avessi dovuto Relaborare tutto Quello che avevo accantonato Paura Terrore di non avere carriera Terrore di non avere un futuro Dalla paura che ho provato Ho pensato di cambiare il nome Ho cambiato il mio Aspetto esteriore Per non farmi riconoscere Dalle persone Che non riconoscevano Già al tempo Mia svegliavo Con l'attacchicardia Attacchi di panico Attacchi di ansia Più volte al giorno Tendenze Suicide pure Abbastanza violente C'è stato un periodo In cui non mi facevano guidare I miei Perché avevano pure A che partisse qualche idea strana Non mi facevano stare a casa da sola Solo recentemente Diciamo anche Con un aiuto dai farmaci Perché io dico Senza avere voglia Prima di farmaci Che mi hanno aiutato un sacco Adesso questo L'ho trasformato Dato che sono 1 su 7 miliardi Nessuno se ne frega di me Posso anche fare delle P***e Posso sparare E nessuno ne frega di niente Allora Internet È una grande opportunità Ma anche una grande Gabbia È un grande pericolo Maria Teresa Ruta Vedevo che quando leggevi Questa intervista Con gli script Annuivi Perché? Sì C'è stato un periodo Durante la mia prima Gravidanza Che ricevevo Delle telefonate Nel cuore della notte Non avevamo I telefonini Con il localizzatore Avevamo le chioccioline A quei tempi E quindi io Non potevo sapere Chi stava telefonando Aprivo La chiocciolina E mi trovavo Delle foto È stata una molestia pesante È stata Questa persona È stata condannata Però sono stati Due anni e mezzo Molto lunghi Due anni e mezzo Molto lunghi E molto pesanti Allora Come Come vengono difese E si possono difendere Su internet Le donne Da questo tipo Di situazioni Allora Maria Teresa Parsi E poi Voglio sentire anche Claudia Anzitutto Non utilizzando Questi strumenti Se non Per l'uso Proprio virtuoso Che se ne può fare Secondo Ricordando Che ci sono Regole e leggi Che adesso diventeranno Ancora più severe E sempre più severe Grazie a Dio Legate proprio Alla violazione Della privacy E Tutto questo È qualcosa Che deve educare Ad un uso virtuoso Del virtuale Che ancora non c'è E sottovalutare Questa situazione È un fatto Di una gravità Estrema Perché Scusate È addirittura Più grave Di tantissime altre cose Sono guerre Che si combattono Utilizzando il web In tutti i sensi Non solo Lesive della dignità O della persona Ma per dati Secondo Arianna Però non ci difende Nessuno Da tutto questo No A me dipende Perché comunque Sennò sarebbe già Bella che è finita Cioè Si va alla pulizia postale Si denuncia Per carità C'è sempre Chi ci tutela Ma non al 100% Perché Se vengono sul mio profilo Che sono comunque Una donna adulta Mamma Non è che Faccia delle foto Particolari Foto di vita Appunto Però bisogna dire Che c'è anche Un altro spaccato Di social Dove diciamo Molte donne Si mettono anche Spesso molto in lingerie Quindi voglio dire Ci deve Cioè Queste persone Vanno là Poi vengono da te Ti offendono Però vanno anche di là Perché a volte Gli viene anche Dato il là Per poter offendere Io voglio anche Cosa ne pensi Riccardo Io però Non vorrei sempre Ogni volta Scusate Fare Discorso di questo genere Siccome la donna Che però Allora Occhio perché È lì che bisogna Cambiare la cultura Perché Se valesse Questo principio Sarebbe un precedente Terribile Perché vuol dire Che allora Uno accusa sempre La donna Perché se veste In una certa maniera Allora ritorniamo Perché la donna Aveva la minigonna Allora E no E no Occhio perché Proprio su queste cose Bisogna cambiare la mentalità Internet È nato Come una straordinaria Opportunità di libertà Il concetto di libertà Passa attraverso Riccardo mi fai una cortesia Devo mandare la linea Alla regia Poi mi dici questo discorso Andiamo la linea No vedi mi uccidono Alla linea della regia Un minuto solo Ritorniamo Un minuto Bellissimo Riccardo Diciamo Internet Nasce E viene percepito Soprattutto come un luogo Di estensione Di quelli che sono i contatti Ma sì ragazzi Sono consapevoli Quando girano su internet O no Questo è il problema Il tema Il tema è un altro Un tema di base Nel momento in cui Noi interagiamo con internet Stiamo in qualche mondo Cedendo una parte Della nostra privacy Dei nostri dati Della nostra persona All'interno di un sistema complesso Che va di fuori Del nostro controllo È evidente Che questo richiede Una profonda consapevolezza Che non sempre esiste E soprattutto Consapevolezza Che nel momento in cui Mettiamo in gioco La nostra persona Il nostro corpo Le nostre parole Questo diventerà Possesso altrui Ecco Nel momento in cui Questo diventa Materia di ricatto Perché ricordiamolo Enrico È una persona Estremamente sensibile E intelligente Ha raccontato come Questo Ha uno spazio temporale Dilatato nel tempo Non finisce nel momento In cui avviene il fatto Diventa ricatto Diventa molestia Diventa tormento Diventa frustrazione Di non possedere Tutto se stesso Allora Claudia Conclude poi La nostra patina Allora vorrei dire Vorrei sottolineare Quanto ha detto da Riccardo Soprattutto anche Di quanto viene detto Perché io Per esempio Ho definito poco lucido Un pilota Che ha avuto un incidente In un rally E ho avuto veramente Tre giorni di fuoco Sui social Mi sono dovuta Anche rivolgere A un legale E da lì in avanti Sono scattate minacce Di tutti i tipi Perché se Non 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 approvavano Non dicevano Che era inappropriato Perché io In qualche modo Lo definivo Poco lucido Quindi drogato Cosa di questo genere Niente ovviamente Assolutamente niente Di quello che io A cui io mi riferivo Però voglio dire Che internet È un'arma a doppio taglio È scontato È banale questa cosa Ma è una grande verità È vero che Il momento che noi Ci esponiamo Dobbiamo purtroppo In qualche modo Far fronte A delle cose Mi rendo conto Cioè è vero Quello che è stato detto Anche che a volte Vengono pubblicate Delle foto Esageratamente Ose Per cui poi Non ci si deve stupire Se si hanno commenti Di un certo tipo Ma al tempo stesso Uno deve essere libero Libero Di poter Di poter Esporre Quello che vuole Perché comunque C'è una buona fede Di base C'è comunque La voglia di essere Se stessi E non dover Fingere Per paura Per aver paura Di qualcosa Delle reazioni Grazie Grazie Allora Ciao Claudia Buon lavoro Rimani Grazie a tutti